Sono decenni che si sta discutendo della necessità di introdurre importanti semplificazioni fiscali nel sistema tributario italiano. Invece sono negli stessi decenni gli obblighi tributari e gli obblighi di comunicazione dei dati sono sempre aumentati. Il problema deriva da due grandi contraddizioni. Uno è che l'elevata pressione fiscale sostanzialmente impedisce di fare delle misure che vengono applicate su tutti i contribuenti e si cerca sempre di fare degli interventi fiscali di nicchia che riguardano solo una ristretta platea di contribuenti. In questo caso il fisco italiano sta diventando magari sempre più equo perché coglie tutte le difficità ma sta diventando anche sempre più complicato. Allo stesso tempo l'altra contraddizione è che riguarda praticamente il discorso della elevata evasione fiscale delle imprese e dei cittadini italiani e determina degli obblighi di comunicazione sempre più invasivi e sempre più importanti. Ne ricordiamo alcuni. L'obbligo di comunicazione di tutti i dati delle fatture attive e passive, l'obbligo di comunicare i dati delle liquidazioni IVA, lo split payment, il reverse charge, la ritenuta dell'8% sui bonifici delle spese che concedono delle trazioni. Sono tutte misure che complicano e complicano tantissimo il sistema fiscale e danno problemi finanziari enormi alle imprese. Ogni volta che si propone l'eliminazione di qualche adempimento si dice eh ma allora uno è a favore dell'evasione. No, il problema è che bisogna andare su un discorso di fatturazione elettronica magari anche obbligatoria B2B ma una fatturazione elettronica che deve essere talmente semplice e poco costosa che può essere equiparata all'emissione di una fattura con Word o con Excel. Arrivati lì occorre abrogare tutti gli obblighi di comunicazione e tutti i discipline particolari finalizzate alla lotta all'evasione.